E' Francesco Bertelli dell'Associazione Agende Rosse di Grosseto e Michele Iacovello che è il coordinatore delle cliniche mobili di Emergency. Introduco brevemente la serata e poi passo subito la parola ai relatori, però permettetemi davvero pochi minuti per dire alcune cose che ritengo importanti e anche per presentare un po' il festival che abbiamo messo in piedi. Io da 15 anni sono un volontario di Emergency, però stasera, lo diceva Michele che ci conosciamo, stasera non sono in Best Emergency, sono soltanto una persona che insieme a Francesco ci siamo incontrati e abbiamo pensato a un festival che abbiamo chiamato festival resistente, anche con, forse esagerando un po', e poi contattando l'AMPI e l'amministrazione comunale abbiamo provato a realizzare. Fuori avete visto c'è il manifesto di questa iniziativa, di questa manifestazione che è cominciata ieri e l'altro e si concluderà in 25. Ringraziamo l'AMPI, ovviamente, e ringraziamo l'amministrazione comunale per il sostegno. Qual è il senso di questa cinque giorni, di questo festival resistente, di questo primo festival resistente Follodichese? È un senso un po' particolare perché non volevamo, Francesco ci siamo confrontati tanto e non volevamo dare un taglio eccessivamente celebrativo, eccessivamente nostalgico, ma partendo dai valori che animarono coloro che hanno combattuto nazifascisti durante la guerra partigiana, ci siamo chiesti come oggi quei valori possono essere attuati, dove sono le nuove resistenze oggi? Infatti il sottotitolo dell'intera manifestazione è la resistenza quotidiana nel terzo millennio. Quindi abbiamo organizzato una mostra che potete vedere aperta fino al 25 aprile al casello idraulico, dove ci sono cinque personaggi che rappresentano un po' degli esempi importanti da stimolo per tutti noi, che sono Pepino Impastato, Mauro Rostagno, Falcone, Borsellino e Lare Alpi. Ieri ovviamente abbiamo anche dedicato la giornata alla memoria a consenso classico, quindi abbiamo fatto una presentazione di un libro che si intitola Bandito alla presenza di un partigiano, uno dei fuori partigiani rimasti ancora, ormai la storia per questioni anagrafiche stiamo consegnando un po' la memoria, quella vera, viva alla storia. Ieri sera proprio qui abbiamo proiettato il bellissimo film di Giorgio Di Ritti, l'uomo che verrà dedicato alla strage di Marzapotto. Molto commovente, estruggente. Continuiamo oggi, continueremo il 24 alla sala Tirreno con un convegno che si intitola resistenza del lavoro a tre anni dalla chiusura dell'alto forno di Piombino. Il 24 saranno tre anni esatti che è chiuso l'alto forno di Piombino con tutte le conseguenze che ne sono scaturite per l'intero territorio, non soltanto per Folloni, per Piombino. E concluderemo poi con le celebrazioni ufficiali e il bel concerto il 25. Il senso era questo, la giornata di oggi, Emergency e Ingroia, che c'entrano con la resistenza? Beh, c'entrano molto, se parliamo di nuove forme di resistenza, sono due aspetti di un impegno sociale importante. Il dottor Ingroia, lo conoscete, da anni si occupa di temi importanti che sono la lotta alla criminalità organizzata in tutte le sue declinazioni e sfaccettature. Emergency, nello specifico, non si occupa di questo, ma attraverso quello che è il progetto Italia, tocca un po' alcuni temi. Michele ce lo racconterà in modo dettagliato. Perché Emergency, sapete che dal 2006 ha iniziato un lavoro anche in Italia, facendo quello che sa fare, sanità. Emergency pura le persone, non fa nulla di più e nulla di meno. Però, lavorando in Italia, lavorando nei ghetti, lavorando nelle periferie, lavorando nelle aree più degradate, incrocia alcuni temi che sono temi su cui Ingroia ha lavorato per anni, dal caporalato alla mafia. Prima parlavamo di tutta una serie di temi importanti come la prostituzione, vedo Cristina qui che potrebbe dopo raccontarci delle cose, visto che è l'infermiera e certi argomenti a Rosarda affoggia le ha toccati con mano. Per cui sono due aspetti, Emergency e il lavoro di azione civile di Ingroia, due aspetti delle nuove forme di resistenza. Concludo dicendo una cosa. Qualcuno ha un piccolo sassolino dalla scarpa che mi tolgo. Qualcuno ha un po' polemizzato sul taglio che è stato dato a questo festival, perché ovviamente i duri e puri si aspettano sempre che le celebrazioni della resistenza abbiano delle caratteristiche, sempre quelle e non hanno ben accettato un taglio diverso. Siamo nel 2017, nessuno rinnega niente, ma io sono felice, contento con Francesco, con l'Ampi, con l'amministrazione comunale di aver contribuito a realizzare una serie di iniziative che, partendo da valori passati, parlino di oggi. Perché dobbiamo guardare ad oggi e a domani. Il passato è importante, ma solo come strumento per l'oggi. Grazie mille e passo la parola. Io direi così, se siete d'accordo. Michele di Emergency parlerà per una ventina di minuti, il tempo necessario a 20-25 minuti e poi Francesco Bertelli introdurranno lo specifico in Groia. Dopo, se volete, il microfono è qui, tutte le domande che vorrete fare siamo a disposizione. Grazie mille. Buonasera a tutti. Grazie mille a Massimo per l'introduzione. Come diceva Massimo, Emergency lavora anche in Italia. La prima domanda che ci fanno in genere è perché Emergency lavora in Italia, visto che dal 1994 lavorate nelle zone di guerra per le vittime civili e non delle guerre nel mondo, per le vittime delle mini-anti-uomo. Come mai in Italia? In Italia non c'è guerra. Sì, è perché in Italia non c'era guerra. Però in Italia sempre più gente e le statistiche del Censis ce lo dicono, 11 milioni di persone hanno dovuto rinunciare lo scorso anno a curarsi. Questo è un dato di fatto. 11 milioni rinunciano, c'è chi rinuncia totalmente ad accedere alle cure mediche o chi in famiglia è costretto a decidere quale membro della famiglia deve curarsi in quel momento e quando. Emergency ha cominciato a lavorare in Italia nel 2006, come diceva Massimo, aprendo una prima struttura fissa, un ambulatorio fisso a Palermo. In quegli anni il nostro target di riferimento era principalmente il migrante, allora non se ne parlava ancora così tanto, però era il migrante presente nelle nostre città senza permesso di soggiorno, quindi senza possibilità di poter essere iscritto regolarmente al sistema sanitario nazionale e che ovviamente non aveva gli strumenti per potersi curare. Quindi la nostra idea è stata quella di fornire a queste persone un primo accesso al sistema sanitario nazionale per poter curare il singolo, ma in un'ottica di cura collettiva delle persone, perché questo secondo me è un aspetto che in sanità non va assolutamente tralasciato. Curare l'individuo significa curare anche la collettività. Nel 2010 abbiamo aperto una seconda struttura a Marghera, nell'area industriale di Venezia, perché Marghera da nord a sud, perché ovviamente Marghera è l'area industriale di Venezia, quindi Porto Marghera. In quegli anni viveva un periodo di crisi dovuta alla chiusura di tante fabbriche, quindi perdita del lavoro, quindi sempre più italiani che avevano tra le tante difficoltà anche quelle di curarsi e poter accedere in particolare ad alcune visite specialistiche, alcune cure che in Italia sono comunque ad oggi ancora a pagamento. Mi viene o a quelle visite tontoiatriche. Nel 2011 abbiamo attivato due cliniche mobili, all'epoca erano due, adesso sono diventate tre, con l'obiettivo di seguire una particolare categoria di migranti in Italia, particolarmente vulnerabile, ovvero i lavoratori stagionali, quindi quei migranti che periodicamente si spostano di regione in regione seguendo la raccolta dei prodotti agricoli, per cui negli anni, continuiamo a farlo ancora oggi, abbiamo seguito il loro percorso, dalla Puglia alla Calabria, alla Sicilia, alla Campania, alla Basilicata. Nel seguire questo percorso ci siamo poi resi conto di quanto alcune aree, in particolare del sud d'Italia, ma perché sono quelle che noi di fatto abbiamo avuto modo di conoscere in maniera diretta, vivono in condizioni di marginalità e di degrado. Per cui le cliniche mobili sono state per noi un'antenna sul territorio, degli strumenti che ci hanno consentito di conoscere non solo il reale bisogno sanitario, ma anche le difficoltà sociali delle persone che vivono determinate aree, motivo per cui abbiamo switchato dalla mobile alla fissa in alcune aree. Mi viene in mente Castelvulturno, dove abbiamo cominciato nel 2013 con una clinica mobile, perché Castelvulturno rappresentava un po' l'hub di riferimento dei migranti che si spostano nelle varie stagioni di raccolta, ogni fine stagioni di raccolta si finisce di raccogliere i pomodori, i migranti passano a Castelvulturno che è un'area che favorisce la vita in una condizione di illegalità o comunque di nero in generale, da lì si riparte poi per Rosarno, finito la stagione di Rosarno si torna a Castelvulturno, si parte per la Basilicata piuttosto che per la Sicilia aveva raccolta delle patate durante il periodo della primavera. Quindi a Castelvulturno ci siamo resi conto in realtà che oltre ad un fenomeno di migrazione stagionale c'era un fenomeno stanziale di migrazione, ci sono comunità molto grandi di migranti, quando dico grandi intendo 20.000-23.000 persone presenti su quel territorio. Consideriamo che Castelvulturno ufficialmente ha una popolazione di circa 22.000 persone iscritte all'anagrafe, di queste 22.000-8.000 migranti più o meno sono regolarmente iscritti all'anagrafe. In realtà il bacino d'utenza su quel territorio è vastissimo perché è un territorio che favorisce condizioni di illegalità partendo dall'affitto degli appartamenti o dalle costruzioni abusive o dalle baraccopoli, per cui è chiaro che il bacino d'utenza è molto più ampio. Quindi parliamo di una comunità migrante fatta di 22-23.000 persone su quel territorio. Stesso ragionamento abbiamo fatto a Polistena nel 2014 quando dopo due stagioni di raccolta dei prodotti agrumicoli, quindi particolarmente concentrati nel periodo invernale, ci siamo resi conto di come in quell'area nella piana di Gioia Tauro vivono comunità stanziali che sono principalmente europee, sono quelli che noi continuiamo a definire i neocomunitari, quindi cittadini rumeni, bulgari che ormai sono entrati nella comunità europea dal 2007, però per alcuni particolari meccanismi di non reciprocità tra i vari stati europei non riescono ad avere gli stessi diritti di accesso al sistema sanitario che abbiamo noi cittadini italiani. Qui a Polistena nel 2014 abbiamo attivato un ambulatorio fisso grazie alla collaborazione con Libera e San Libera ha ottenuto un bene confiscato all'Andrina locale in una piazza particolare, quindi la piazza che ospitava la famiglia, che controllava non solo Polistena ma anche le campagne circostanti, abbiamo ottenuto un piano di questo palazzo confiscato e ne abbiamo fatto un ambulatorio. Chiaramente questo palazzo è diventato un po' per la piana di Gioia Tauro, non so chi la conosce, chi ha avuto modo di conoscerla, è una zona molto vasta fatta da tanti paesini attaccati l'uno con l'altro, rappresenta questa piazza e questo palazzo in particolare, rappresenta un po' il simbolo della riscossa di Polistena e di tutta la zona perché appunto si sta cercando di creare un polo culturale e dare soprattutto alla popolazione locale delle alternative. Io prima parlavo con Massimo proprio di alternative, adesso divago un po', sto sempre nei venti minuti ma divago un po'. Nel vedere la mostra sono rimasto particolarmente stupito da alcuni disegni dei bambini che rappresentano la mafia come il bullismo, negli atti di bullismo c'era in particolare un disegno di un bambino con una fionda, rappresentava la mafia, quella era la sua rappresentazione di mafia. Parlando con Massimo dicevo sì, è bellissimo questo sentimento di questi bambini, cioè quello che riescono ad esprimere i bambini, è pure vero che sono bambini di follonica, ovvero di una comunità bella, cioè di una comunità sana, quindi bambini che crescono nel bello e nel sano, differentemente di altre aree geografiche dove il bambino è costretto a vivere nel brutto. Secondo me questo, cioè le future generazioni, il destino delle future generazioni è anche una questione di estetica, questo lo dico io personalmente, cioè se cresci nel brutto è difficile poi uscire fuori da queste condizioni di vita e quindi dall'altro lato è facile entrare in meccanismi di malavita, di sfruttamento, di degrado e quant'altro. Ritornando a Emergency, scusate la parentesi, nel 2014 abbiamo attivato questo ambulatorio fisso a Polistena, ad oggi Emergency lavora in otto regioni d'Italia, da nord a sud, Sardegna compresa, con 13 progetti, da Milano, a Milano abbiamo attivato una clinica mobile nelle aree periferiche proprio perché ci siamo resi conto che appunto nelle nostre città vivono delle sacche di marginalità importanti che non sono costituite soltanto dai migranti comunitari o extracomunitari, ma anche di italiani che realmente hanno difficoltà amministrative soprattutto nell'accesso alle cure, Venezia, Castelgolturno, Napoli, la Sardegna, Sassari, a Latina abbiamo attivato di recente un progetto per i lavoratori stagionali, in particolar modo per la comunità Sikh indiana che è molto forte a Latina, anche lì in tutta l'area dell'agropontino vertono più o meno 25 mila cittadini indiani che vivono in Italia da 15-20 anni e nonostante questo continuano a vivere in condizioni di assulta marginalità e di lontananza soprattutto dai servizi, sia lontananza fisica sia di conoscenza di quali sono i loro diritti di accesso a servizi che non sono solo servizi sanitari ma sono anche servizi sociali e siamo particolarmente attivi in Sicilia, purtroppo nell'area degli sbarchi, abbiamo diversi progetti nei porti principali di sbarco ad Augusta e Pozzallo e in alcuni centri di prima accoglienza sempre nell'area sud orientale della Sicilia, nel Siracusano e gestiamo alcuni centri di accoglienza anche nella provincia di Agrigento. Quindi stiamo vivendo in prima persona tutto questo movimento di migratori che si spostano dalle coste africane e arrivano in Italia. Nell'anno scorso tra l'altro abbiamo partecipato alle operazioni di Search and Rescue con un'altra ONG maltese, a bordo della nave di un'altra ONG maltese, operazioni di soccorso e ricerca di soccorso che ultimamente stanno, come sapete, sono al centro di numerose polemiche. Secondo me nel campo delle migrazioni una riflessione va fatta e io lo sto dicendo, cioè noi lo diciamo spesso perché l'attenzione generale dei media in particolare è concentrata sulla ricerca in mare, sugli sbarchi, arrivano 150.000 persone, l'altro weekend sono arrivate 8.500 persone, grandi numeri che ci vengono dati, a parte che appunto i numeri poi vanno visti nella realtà che la parola più diffusa è invasione, malattie, i numeri li conosciamo, se in un paese come l'Italia arrivano 150.000 persone e noi abbiamo 8.000 comuni, con una semplice operazione capiamo che 20 persone a comuni non ce ne accorgiamo neanche, cioè 20 persone di un altro paese sono più o meno i cittadini che abitano in un condominio in una qualsiasi città, quindi i numeri sono assolutamente irrisori per poter parlare di invasione. Il problema delle malattie, anche questo, noi appunto lavoriamo nella fase dello sbarco, della prima accoglienza e poi li vediamo successivamente quando furiescono dai circuiti di accoglienza e lì secondo me è preoccupante, vabbè, le percentuali che abbiamo di malattie diffusive, a parte nuove malattie non ne conosciamo, non siamo mai venuti al contatto, ma le percentuali molto basse, gira intorno al 5% e parliamo soprattutto di scabbia, quindi voglio dire una malattia, ci sono infermieri e sanitari quindi lo sanno meglio di me, una patologia tranquillamente curabile in 1-3 giorni, quindi nessun allarmismo, però dicevo appunto, la nostra attenzione in Italia è particolarmente concentrata su questo, quando secondo me noi dovremmo cominciare a guardare un attimo un po' più avanti, cioè dovremmo cominciare a pensare fra 2-3 anni, quando queste persone verranno fuori dai circuiti di accoglienza, che cosa succederà. In questi anni noi abbiamo lavorato molto nelle aree degradate, nei ghetti, in quello che diceva prima Massimo, in particolar modo nel ghetto di Vignano Garganico in Puglia, nella tendopoli di Rosarno in tutta la piana, a Castelvolturno, a Cassibile in provincia di Siracusa dove appunto c'è questo ghetto che si crea tutte le primavere, il famoso hotel Sudan, famoso insomma per chi è del mestiere, l'hotel Sudan perché lì si incontra tutta la comunità sudanese per andare a lavorare nei campi. Ecco noi negli anni, a partire dal 2013 in particolare, quando sono aumentati gli arrivi in Italia e il nostro sistema di accoglienza non è stato in grado, non dico di accoglierli, ma soprattutto di dargli una prospettiva futura, abbiamo visto incrementare non solo i ghetti già esistenti, ma nascere nuovi ghetti, penso al centro di Pavia, di Padova, penso all'Isonzo, a quello che è successo alla stazione centrale di Milano lo scorso anno, alla stazione Tiburtina, al Baobab e quant'altro. Quindi in realtà il problema secondo me è da proiettare più in futuro, cioè noi dobbiamo, bisognerebbe creare un sistema in grado di dare a queste persone che ricevono ovviamente un regolare permesso di soggiorno la possibilità di potersi integrare all'interno della società, altrimenti queste persone non faranno altro che uscire dal sistema d'accoglienza e andare a ingrossare questi ghetti. Noi quest'anno abbiamo visto a Rosarno che era una tendopoli che nasceva a ottobre e si chiudeva a fine febbraio, inizi marzo, oggi è ancora lì, ad oggi ci sono 2500 persone ed è diventato uno slum indiano, c'è una favela sudamericana, una distesa immensa di baracche dove vivono appunto 2500 persone auto-organizzate con bar, ristoranti, negozietti di scarpe piuttosto che di ricariche di cellulari, senza ovviamente servizi basilari quali bagno, acqua potabile, prendono l'acqua dai campi, dai canali di irrigazione, se la riscaldano la rivendono per potersi lavare e ovviamente questi ghetti sono poi in realtà un focolaio di illegalità, di lavoro nero e questo si porta dietro tutta una condizione di sfruttamento, di mancanza di diritti, di allontanamento e di isolamento da quello che è il resto della società civile, della società italiana scusate. E secondo me è lì che noi dobbiamo cominciare ad andare a ragionare invece di continuare a parlare di arrivi, di sbarchi e di quant'altro. Noi in Italia ad oggi abbiamo curato circa, abbiamo effettuato 280.000 prestazioni curando 80.000 persone che è un numero troppo importante, cioè nel senso evidentemente il bisogno di sanità è forte in Italia ed è forte anche tra gli italiani e questa è la parte ancora più preoccupante del lavoro che facciamo noi perché sempre più italiani si rivolgono a noi, è vero che molti, la maggior parte di italiani che si rivolge a noi sono italiani senza fissa dimora, quindi gente che è finita in strada, ma è anche vero che sono persone che per problemi amministrativi o burocratici non possono avere un normale medico di base come credo abbiamo tutti noi qui dentro, perché si sono trasferiti, si sono trasferiti in un comune dove non hanno possibilità di poter avere un contratto regolare di casa, non possono eleggere la loro residenza e senza residenza in Italia non può avere molti dei servizi messi a disposizione. Insomma il dato per noi preoccupante è questo, è il crash degli italiani, del numero di cittadini italiani che accedono ai nostri servizi e questo lo vediamo appunto da Milano a Castelvulterno. Io non so adesso, passo direttamente la parola, sì, sì, sono stato all'interno dei tempi, ho detto sì, grazie. No, no, scherzo. Grazie innanzitutto a Michele e a Antonio Grohe che è riuscito a finire qui in questo nostro primo festival resistente e grazie a tutti. Allora, sì, come diceva Massimo all'inizio, resistenza, attualizziamola un po' diciamo da altre sfaccettature perché ci sono vari tipi di resistenza. Infatti con l'idea appunto di avere Antonio qui, il primo elemento di resistenza su cui mi volevo concentrare è la nostra Costituzione. Cantone ha scritto recentemente un libro dalla parte della Costituzione dove lui, diciamo, in un certo modo, secondo me, lo possiamo proprio definire un partigiano della Costituzione. Perché abbiamo visto che ci sono appunto varie forme di resistenza e la Costituzione da una quarantina d'anni a questa parte, se non di più, è stata sempre messa sotto attacco da destra e da sinistra e mi ha colpito il sottotitolo del libro da Gelli a Renzi. Allora la domanda che volevo fare a Antonio per il primo punto è la lettera del 2013 della GP Morgan, che tutti noi conosciamo, che è stato un po' il fulcro da cui poi sono partiti i vari ordini, troppi diritti che vengono concessi ai lavoratori, queste Costituzioni del dopoguerra, eccetera. La resistenza che c'è stata, perché possiamo dire che c'è stata una buona resistenza per il 4 di dicembre. Cosa ci dobbiamo aspettare dal potere? Anche dalla stessa lettera della GP Morgan ci saranno altre, diciamo così, che prenderanno il timone, perché nel frattempo noi cittadini, che diciamo è stata un po' una sorta di lotta, secondo me anche a Renzi sì e Renzi no, per certi aspetti, ma proprio sulla Costituzione, cosa ci dobbiamo aspettare noi adesso? Tanto grazie per avermi invitato a questo festival resistente, mi piace, c'è il nome, diciamo, molto aver visto il vostro programma, perché dobbiamo quanto mai sempre di più cercare di mettere insieme i pezzi di società resistente che nel nome della resistenza storica vuole resistere oggi, in un momento, per carità, non confrontabile con coloro i quali resistevano contro un regime dittatoriano fascista e violento che conosciamo, ma, come dire, noi siamo in una situazione per certi versi, non dico peggiore di quella della resistenza del tempo, ma per certi versi più difficile, più difficile per la ragione che noi siamo dentro un regime globale, non siamo dentro un regime fascista nazionale, come ai tempi della resistenza. Il potere contro i quali si opposero i grandi, diciamo, con la grande generazione della resistenza che poi ha vinto, a prezzo di sangue, di omicidi e stragi, aveva però altrove, in altre parti del mondo, punti di riferimento, ideali, speranze, progetti di società e di modelli di sviluppo diversi che oggi non ci sono. Il dramma della nostra condizione attuale è che il processo di globalizzazione economico-sociale, che è un processo ad oggi vincente e apparentemente senza resistenza, diciamo, senza una vera, forte movimento di resistenza e di opposizione globale, che dovrebbe essere altrettanto, per poter vincere, globale come il sistema di potere che ci opprime poi all'interno delle nostre nazioni, ma avendo una forza, ebbene hai fatto accettare G.P. Morgan, G.P. Morgan ci arriva, non per erudere la domanda, ma dico per fare il confronto e quindi la necessità di parlare di ieri, facendo memoria, facendo tesoro di quello che è stata la resistenza storica, calandolo oggi, cercando di attualizzare, abbiamo questa difficoltà di fondo in più oggi rispetto a ieri. La difficoltà appunto è che il sistema di potere contro il quale, non meno criminale e violento, contro il quale noi ci dobbiamo battere, rispetto a quello che dobbiamo resistere, è un sistema globale, che va affrontato peraltro in modo globale, con una strategia globale. Scusate la premessa, ma credo che fosse necessaria, io la vengo alla risposta. Partigeno della Costituzione, sì, mi è sempre piaciuto definirmi tale e quando ero ancora magistrato definirmi tale mi costò perfino un procedimento disciplinare, come dire, l'inizio di un progressivo isolamento e accerchiamento istituzionale che poi mi ha portato fuori dalla magistratura, ma non ho nessun rimpianto per quella scelta, neppure il fatto di aver partecipato all'epoca a un convegno, un congresso di partito che alla Costituzione si era richiamata, eravamo ai tempi degli assalti berlusconiani alla Costituzione con quel progetto di revisione della Costituzione che era esattamente, e vengo anche al tuo richiamo al libro, il progetto di revisione della Costituzione berlusconiano che era esattamente lo stesso progetto di Licio Gelli ai tempi dell'AP2, ma esattamente lo stesso progetto di JP Morgan e di Matteo Renzi che abbiamo sconfitto al referendum di dicembre. E non sembra strano, non sembra una forzatura, ma la verità, il problema è che noi a volte sbagliamo a ragionare in base alle categorie con le quali ci vogliono fare pensare, perché questo sistema di potere è un sistema di potere che non si accontenta di opprimere i nostri diritti e le nostre libertà, ma vuole opprimere anche la libertà di pensiero, non solo quello di parola, la libertà di pensiero, perché vuole cambiare e ci è riuscito, quella parte, a cambiare il nostro modo di pensare, non solo reprimendo il nostro modo di esprimere. e questo è una fase evolutiva successiva e ancora più deteriora rispetto a quelli del tempo del fascismo, rispetto al quale c'erano, al di là della libertà di manifestazione del pensiero, nulla è annullata, c'era però la possibilità di pensare, magari non manifestando, come pensato, oggi è sempre più difficile fino a pensare in modo critico e diverso rispetto al pensiero comune. Che voglio dire? Voglio dire che sbaglieremmo se noi pensassimo come ci vogliono, far pensare secondo lo schema semplice, superficiale, ma sbagliato della personalizzazione della storia. La storia non è fatta da persone, o meglio, non è da personalizzare nei personaggi simbolo che incarnano momento per momento le varie fasi storiche. Il punto è quello, sbagliato è stato l'anti-Berlusconismo come l'anti-Renzismo, tolto Berlusconi e si è riprodotto lo stesso schema. Matteo Renzi aveva detto che se avesse perso il referendum si sarebbe dimesso un giorno dopo, il 30 aprile quasi certamente verrà incoronato nuovo monarca del PD vincendo le primarie del PD e tornerà a portare avanti il suo progetto che però, attenzione, non è suo, come non era suo quello di Berlusconi, perché c'è un sistema di potere che utilizza questi uomini, apparentemente sono soprattutto uomini molto abbi nella comunicazione, perché oggi la politica è soprattutto comunicazione, non è contenuta mai comunicazione o messaggi e quindi occorrono soprattutto comunicatori. Il fatto che in qualche modo l'opposizione sia oggi interpretata prevalentemente da un attore come Beppe Milo è una dimostrazione diciamo alla rovescia e lo specchio dello stesso fenomeno. E così Berlusconi, Renzi, altro non sono che attori interpreti di un canovaccio che è stato scritto altrove. Dove è stato scritto? è stato scritto dai grossi gruppi di potere che sono i padroni del nostro destino, sono i padroni del nostro presente e se non riusciamo a scardinare questo sistema saranno padroni del nostro futuro e per tanto tempo. Dico e richiamo a quello che Francesco Pocanzi introduceva, J.P. Morgan. Prendiamo J.P. Morgan. Il famoso documento J.P. Morgan apparentemente è un documento incomprensibile. Voi pensate che un gruppo, una banca d'affari, una delle più grandi banche d'affari del mondo che J.P. Morgan abbia un'ideologia? Cioè sia anticomunista per regioni ideologiche e quindi faccio quell'attacco alla Costituzione per una questione di opzione ideologica? Evidentemente no, è soltanto questione di affari e di interessi. La questione di affari e di interessi è legata a una Costituzione, appunto frutto di quella nobile resistenza storica, una Costituzione che grazie al convergere di una serie di fatti storici unici, straordinari, eccezionalmente fortunati per il nostro paese, riuscì a edificare una Costituzione che non come diceva chi se l'è dimenticato, cioè Roberto Berini, diciamo la Costituzione più bella del mondo, ma una Costituzione questa sì più avanzata del mondo perché aveva costituito con una architettura costituzionale direi quasi perfetta quella che mi piace definire, ho definito in quel libro la democrazia orizzontale o, come dicono in modo più appropriato i costituzionalisti, la democrazia partecipata, cioè la democrazia che nel suo principio cardine dell'articolo 1 della Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo, sovranità popolare, e che nel suo articolo successivo articola, articola una architettura costituzionale che garantisce questa partecipazione e addirittura, ed è una delle cose certamente più avanzate nella nostra Costituzione impone alla Repubblica, lo dice l'articolo 3, il fondamentale principio di uguaglianza in senso sostanziale, e cioè impone alla Repubblica l'obbligo di rimuovere quegli ostacoli, dice la Costituzione, di ordine economico, sociale, di razza, di religione, quegli ostacoli che impediscono di fatto l'uguaglianza formale che viene pronunciata e denunciata in ogni Costituzione liberale del mondo, ma che poi viene soltanto pronunciata ma non viene realizzata, mentre la grandezza della nostra Costituzione è che pone un obbligo in più allo Stato e alla Repubblica, non puoi soltanto dire che i tuoi cittadini sono uguali, ma è il tuo dovere, il tuo compito rimuovere tutti quegli ostacoli che impediscono che i cittadini che vengono dichiarati uguali siano effettivamente uguali, e poi pone delle altre norme cardine, come quelle che limitano l'iniziativa economica privata e la proprietà privata, dicendo che la proprietà privata e l'iniziativa economica, benché libera e consentita, devono avere un'utilità sociale, e lo Stato deve agire e attivarsi perché quella utilità sociale sia garantita. Questa straordinaria Costituzione costituisce un ostacolo alla realizzazione degli interessi delle lobby che oggi sono prevalentemente in una economia e una politica asservita alla finanza, sono prevalentemente i gruppi, i grossi gruppi finanziari, non più soltanto, soltanto italiani, ma europei e soprattutto mondiali. Il processo di globalizzazione altro non è questo, solo questo, la politica mondiale è asservita ai poteri globali, poteri finanziari globali che si inugnerano in questi gruppi di affari e di interessi, ma questo è partito già da prima, ecco perché quel libro io ho voluto fare un libro storico, perché la questione, la battaglia che si giocava, e abbiamo vinto, ma abbiamo vinto soltanto il primo round al referendum di dicembre, era una battaglia che veniva da lontana ed è sempre la stessa battaglia, è la battaglia che inizia dall'indomani dell'approvazione della Costituzione, perché la Costituzione è stato il grande risultato ottenuto dalla resistenza, ma poi è iniziata una lunga battaglia per cercare di abbattere quella Costituzione che è stata frutto di un momento, come dicevo, magico, nel quale siamo riusciti a ottenere un risultato straordinario, che i gruppi di potere del nostro Paese sono cercati di abbattere e non sono mai riusciti ad abbattere perché sull'onda della resistenza, per un trentennio, possiamo dire, c'è stato nel nostro Paese dei movimenti popolari di massa dal basso che hanno impedito la modifica della Costituzione nonostante il governo politico fosse saldamente nelle mani di un ceto politico, diciamo così, conservatore, insomma, che faceva capo alla demolizione cristiana dell'epoca legata con il patto atlantico agli Stati Uniti d'America, quindi dentro la logica dei blocchi, ma con una forte opposizione, direi resistenza politica e sociale che ha impedito l'attacco frontale della Costituzione, anzi ha consentito in alcuni momenti, penso soprattutto agli anni 70 che è stata una delle stagioni più importanti di risultati di successo e di successi sul piano della realizzazione dei diritti civili e sociali a trasformare quella Costituzione anche in materia viva, in attuazione, pensiamo appunto al risultato delle battaglie del movimento operario degli anni 60 e del movimento studentesco sul fine degli anni 60 che si è tradotta in una stagione di leggi, da quella sullo statuto dei lavoratori al nuovo diritto di famiglia, eccetera, che hanno creato un'attuazione della Costituzione che ha messo a rischio quei potentati economici che esistevano certamente già allora e io individuo la stagione cruciale sul finire quindi tra gli anni 70 e i primi anni 80 nel quale Lice Gelli ne costituisce un esempio della P2 ma a sua volta Lice Gelli, altro non era anche lui, che è come dire una maschera sul palcoscenico dove c'erano altri che agivano dietro e quegli altri erano quei poteri che facevano capo ad esempio alla Commissione Trilateral, voi sapete cos'è la Commissione Trilateral? La Commissione Trilateral era un gruppo di studiosi, economisti e sociologi pagati dalle grosse banche d'affari americane, c'era Rockefeller che morto qualche giorno fa, qualche settimana fa, l'ultimo credo di sopravvissuto della vecchia generazione Rockefeller, morto centenario qualche settimana fa, che era il fondatore della banca Manhattan Bank e di altri grossi gruppi bancari, assieme a lui c'erano personaggi della finanza e della politica, c'era Henry Kissinger che è stato al lungo consigliere dei veri Presidenti della Repubblica e del Capito del Stato americano che si sono vicendati e altri che hanno fatto uno studio, uno studio che si intitolava curiosamente Crisi della Democrazia, che venne pubblicato tra l'altro anche in Italia negli anni Ottanta, in Italia venne pubblicato con la prefazione di Gianni Agnelli che all'epoca, come tutti ricorderete, era il simbolo del potere forte quando la Fiat rappresentava ovviamente il potere forte del nostro paese, un fatto simbolico nel quale c'era uno studio di quello che loro dicevano essere la crisi della democrazia, in Europa c'era una parte militare ma riguardava l'Europa e i vari continenti e la crisi della democrazia riferito all'Europa era esattamente quello che abbiamo ritrovato scritto in quel documento da JP Morgan nel 2012, un problema nel quale si diceva che la crisi della democrazia era un eccesso di partecipazione, perché si sosteneva e si teorizzava in quel documento che un eccesso di partecipazione paralizzava la democrazia e che la democrazia per funzionare ha bisogno che ci siano delle elite che guidino il popolo e c'era un meccanismo di eccesso di partecipazione della democrazia e nelle costituzioni che erano state approvate all'indomani del secondo conflitto mondiale che costituiva un ostacolo a quello che loro chiamano la crisi della democrazia, naturalmente era una palese ipocrisia e falsificazione perché il loro problema non era la crisi della democrazia ma era la crisi del capitalismo, il capitalismo stava attraversando un momento di grave crisi, rovesciando su una presunta crisi della democrazia si voleva avviare un percorso antidemocratico che infatti ha subito i suoi risultati e quei risultati l'Italia, la sua decreditazione si chiama liceggio dell'AP2 e liceggio dell'AP2 nonostante venne scoperta per caso dalla magistratura miranese, ricordate le famose indagini di Gerardo Colombo e Giuliano Turone, la scoperta degli elenchi dell'AP2 perché determinava uno scandalo, poi si è risolta in una bolla di sapone, purtroppo, perché la magistratura romana dove poi venne trasmesso il procedimento penale assolse i capi dell'AP2 dalla più grave accusa di associazione per delinquere, quindi non era un'associazione criminale secondo la magistratura romana. La parte migliore dello Stato italiano fece un impegno con la commissione epiduta da Tiranselmi ma rimase soltanto senza sostanziali effetti al punto tale che Tiranselmi, si può dire che con quella presidenza di commissione e con la sua posizione intransigente, anche lei, probabilmente alla resistenza, con la sua posizione intransigente segnò la fine della sua carriera politica, mentre gli iscritti all'AP2 ebbero una lunga carriera politica, come dimostra il fatto che qualche anno dopo ci siamo ritrovati Silvio Berlusconi a capo del governo, che era, come sapete, epiduista, a capo del governo e saldamente in quel posto per un ventennio in cui la nostra democrazia comunque, al di là di tutti i nostri massimi sforzi, è stata distrutta. Perché noi possiamo credere e gioire del fatto che dopo vent'anni siamo riusciti, diciamo noi, come popolo, siamo riusciti a liberarci Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi quei vent'anni li ha utilizzati in rinunione del mondo per sé e contro di noi, e contro la Costituzione, ma ci è riuscito. È cambiata anche la mentalità degli italiani. e ha realizzato Berlusconi quella che io chiaro paradossalmente quella che Antonio Gramici, diciamo, sognava per l'altra parte dell'Italia, cioè con l'egemonia culturale, l'ha realizzata Silvio Berlusconi. L'Italia è diventata molto più berlusconiani di tutti, siamo un pochino berlusconiani, siamo usciti da quel ventennio. e Matteo Renzi, infatti, è il prodotto di quel ventennio. E lo dico senza volere demonizzare Matteo Renzi e quello che rappresenta, ma semplicemente guardare con il massimo obiettività, realismo, ma anche spietatezza, la realtà che abbiamo davanti a noi, e in realtà, appunto, è lo stesso progetto, il progetto della Costituzione, il progetto di revisionismo, revisione costituzionale, di contro riforma costituzionale che Matteo Renzi va a portare davanti, erano pari pari quelle che avevano scritte in una commissione trilaterale trent'anni prima, che lì Cergelli aveva provato a mettere in alto, che Berlusconi è riuscito a mettere in alto soltanto in modo, diciamo, indiretto e trasversale, non riuscendo a realizzare la sua riforma costituzionale, che Renzi è quasi riuscito a mettere in alto. Ecco perché... ecco perché quello che cosa ci aspetta? Ma ci aspetta un nuovo attacco e assalto alla dirigenza, se noi non siamo in grado di tesorizzare quello straordinario successo del referendario che si è realizzato a dicembre, ma come sono riusciti loro, diciamo, i padri della resistenza, loro non hanno soltanto resistito. Hanno resistito, poi hanno liberato il paese e poi hanno cominciato a ricostruire la democrazia. Certo, in condizioni, diciamo, più forti, con un movimento di massa sociale, con partiti, sindacati che erano forti e che oggi sono stati distrutti, in parte anche essi, diciamo, egemonizzati. Se pensiamo che il PD non partecipa alla comunistazione del 25, possiamo capire come ci sia stato il tradimento di questa nobile eredità. Il padorama è un padorama, diciamo, desolante che abbiamo davanti. Però quel risultato è il referendario e la nostra ancora di salvezza. Noi la Costituzione l'abbiamo salvata e saremmo tutti degli sciagorati se non riuscissimo a metterla a frutto avviando dopo quel momento di resistenza, perché quel voto, quella vittoria referendaria che è stato un alto momento di resistenza, se dopo la resistenza non siamo in grado di mettere in atto un movimento di liberazione e poi un processo di ricostruzione democratico. È difficile la salvezza vita, ma partendo da quel 4 dicembre abbiamo, come dire, la responsabilità rispetto a quel passato glorioso di cui dobbiamo fare memoria, responsabilità rispetto a quel passato e responsabilità rispetto al futuro nostro e delle prossime generazioni per farlo. Bene, allora, ancora resistenza, no? Dicevamo. Resistenza io andrei anche a fare un passo successivo dopo la Costituzione, visto che non se ne parla quasi mai purtroppo, perlomeno in televisione non se ne parla mai, anzi si parla di presunta eccetera eccetera, ora ci arrivo. Volevo parlare un attimo della trattativa Stato-mafia che non è tanto presunta, poi vabbè ci diceva anche Paolo Borsellino stesso che troppo spesso ci si nasconde dietro lo schermo di una sentenza, di varie sentenze, diciamo che non è mai detto che la verità storica non coincide mai con la verità processuale. Esiste un processo, un processo che va avanti da diverso tempo e Antonio ne sa più di me ovviamente. L'indagine partì da lui e del PM Nino Di Matteo, il pulpo di Palermo e le varie vicende che ci sono state, dal conflitto di attribuzione del 2012 con l'ex Presidente della Repubblica. La domanda che faccio io da cittadino è resistenza, quindi la resistenza è anche il bisogno di sapere la verità, perché questo processo della trattativa Stato-mafia vuole far luce sul biennio 92-93, anche un po' 94, sulle bombe del 92, su quelle del 93 che non se ne sente mai più parlare, la strage dei gergofili a Firenze, le bombe di San Giorgio al Belalbo e San Giovanni da Terano e soprattutto come si è comportato lo Stato italiano in quel periodo là, 25 anni fa, tra la strage di Capaci, la strage di Via D'Amedio, quindi Falcone prima, Borsellino poi, poi cosa è successo subito dopo? L'allentamento del 41 bis, eccetera. Il fatto che per un paio di anni in Italia non c'è stato più l'ergastolo per i macchiossi, non si è mai parlato, ma c'è stato. Anche come risultava dal famoso papello di Totorina. La domanda mia è, è vero, la verità è il bisogno, secondo me è primario, ma secondo te c'è il rischio che questo processo arrivi e si conclude in una bolla di sapone? Oppure ci sono delle speranze che magari per esempio qualche giorno fa è uscita proprio la sentenza sul borsellino Water, dove si fa appunto la luce sulla strage di Via D'Amedio, dove un piccolo sassolino pare sia stato messo, cioè il vecchio, diciamo, finto boss, tra virgolette, accusato della strage di Via D'Amedio, Vincenzo Scarantino, sono state riconosciute le attenuanti generiche e quindi è decaduta la sua accusa di calugna, perché, se si legge testualmente, è stato, diciamo così, spinto, ora lo dico a parole, diciamo, verte a tutti, è stato spinto a fare delle determinate dichiarazioni, che lui si era lato accusato appunto di essere stato l'artefice dello scopo di Via D'Amedio. Quindi tornando alla domanda, secondo te, sì, arriveremo a questa benedetta verità o sarà una bolla di sapone? Allora, questa domanda così secca ovviamente non sono in grado di risponderla da ragione semplice, non tanto, non solo per rispondere facilmente, dicendo, vabbè, per la sentenza della verità dei giudici, i giudici poi si riteranno in capire il consiglio di riteranno, ma io dico di più, visto che la domanda come l'hai posta, l'hai posta in modo, diciamo, molto impegnativo, chiedendo se si avrà la verità, non se che tipo di sentenza si avrà. E allora la mia risposta è che la verità si avrà se noi saremmo in grado di conquistarla. E quando dico noi, dico noi come popolo, almeno con la parte di popoli, di italiani, che a quella verità ci tengono, perché non dimentichiamo, anche qui dobbiamo essere, diciamo, realisti sino alla spietatenza, molti italiani, di quella verità a noi non ne frega niente. Questo è un dato con il quale noi dobbiamo fare i compiti. E perché? Per la ragione che ho detto prima nel primo intervento, perché c'è una parte degli italiani che è stata anestetizzata da questo ventennio. Il ventennio perlustoniano non è passato senza lasciare segni e segnali. C'è una parte di italiani che è un po' rassegnata, un po' disinteressata, molto superficiale, la deriva del clima culturale, sociale, di capacità, di resistenza e di opposizione nel nostro paese è calato a picco in questo ventennio. Allora, perché? Dice, cosa c'entra questo con la verità di quel processo? C'entra, perché sono sempre più convinto, e col passato del tempo me ne sono sempre più convinto, e 25 anni in magistratura mi hanno consegnato questa certezza di lei mia, la mia opinione, ma per me è certa, e cioè che ovvio il risultato, anche il risultato giudiziario, non è frutto soltanto di quello che accade nell'aula di giustizia, ma è anche frutto di quello che accade fuori nell'aula di giustizia, perché soprattutto nei processi in cui entra in gioco il potere, con la P maiuscola, e quando entra in gioco lo Stato, con la S maiuscola, dove si processa anche lo Stato, una componente dello Stato, ma comunque lo Stato viene in qualche modo processato da un'altra parte dello Stato, il processo trattativo della Stato mafia, diciamo l'apice di questa parabola, sarebbe sbagliato pensare che è soltanto un affare di prove di capacità dei magistrati dell'accusa, degli avvocati della difesa e dei giudici che decidono, ma dipende molto da quello che possiamo chiamare il clima del paese, la tempere culturale, l'attenzione all'opinione pubblica, non dovrebbe essere così, si dice, perché la giustizia dovrebbe operare come all'interno della campana di vetro, ma non è così. E la storia della mafia e dell'antimafia lo dimostra in modo nettissimo. Quando Falcone e Borsellino, Falcone in particolare, disse quella famosa frase quasi nostalgica, negli anni più difficili, ricordando con nostalgia i tempi in cui, diceva lui, la gente faceva il tifo per noi. Ora, non è che Falcone aveva nostalgia del tempo in cui la gente faceva il tifo per i giudici antimafia perché a lui piaceva l'applauso, perché era un esibizionista, perché amava il riflettore, come si diceva ai tempi di Falcone quando era vivo e si è detto dei altri magistrati antimafia quando Falcone più vivo non era. Falcone lo diceva perché era consapevole che il maxiprocesso, il processo più importante del lavoro giuridico-processuale che Falcone e Borsellino realizzarono, il maxiprocesso non ci sarebbe mai stato se non ci fosse stata la primavera palermitana. e la primavera palermitana non ci sarebbe mai stata se non ci fosse stato appunto, purtroppo, una stagione di omicidi che sono arrivati, se non il presidente della regione, Mattarella, giudici, magistrati come Chennici, il generale, l'altro commissario, il caldo del perso della chiesa, eccetera, alla fine di una stagione arrivata dal 79 fino all'82, 83, e quello è stato il momento in cui per reazione si creò un movimento di massa antimafia che poi determinò l'approvazione da parte del Parlamento della legge La Torre, dopo l'omicidio di Piola Torre, perché fin tanto che Piola Torre proponeva tra qualche giorno, ricorderemo l'anniversario dell'omicidio di La Torre, e venne approvata la legge La Torre con l'insoluzione del 116 bis, l'associazione mafiosa e poi lo strumento di sequestra e confisca, e allora questa spinta da parte di un movimento antimafia di massa sull'istituzione e quindi la politica finalmente fa la sua parte approvando con le leggi, si danno a potere e strumenti alla magistratura, contemporaneamente da un lato la magistratura, come dire tra virgolette, si prende coraggio e va avanti e avanza, dall'altro dentro la mafia si creano delle crepe, Tommaso Cuscetta, il primo pentito e portato di mafia, nasce in quella stagione e anche lì è frutto di quella stagione, e lì nasce il maxiprocesso, e quindi per questo dico la verità diventa e anche una conquista collettiva, perché il maxiprocesso, cioè Falcone e Porsellino, naturalmente straordinari magistrati, ma raccolsero i frutti di una spinta collettiva, e lo stesso è accaduto una decina di anni dopo, nella stagione in cui ho vissuto, il doppio da vicino quando l'ho sostituto alla procura di Palermo, Giancarlo Caselli, il procuratore capo a Palermo della stagione, subito dopo le stragi, in quella stagione è accaduta esattamente la stessa cosa che era accaduta dieci anni prima, il sangue, le stragi, la strage di Capaci, il morì Falcone con la moglie Francesca Morvillo di Roma della scorta, quella di Porsellino e la strage di Viena del Meglio del 1992, determinò un'emozione collettiva del paese che creò una spinta dal basso, e quella spinta dal basso produsse risultati, un impegno collettivo da parte dello Stato e delle istituzioni che fece la loro parte e consegnarono gli strumenti alla magistratura e consentì alla magistratura di fare un altro passo in avanti, non più soltanto i processi alla mafia militare, ma anche i processi che vengono definiti tra virgolette politici, il processo Andreotti, il processo Dell'Uti, il processo Contrada, che consentì di smascherare quel livello di complicità fra mafia e pezzi delle istituzioni. Bene, anche quei risultati sono state sentenze per lo più di condanna, mentre l'Uti è Contrada per Andreotti e come sapete fu una sentenza a metà, in parte venne assolto, in parte venne ritenuto in reatto esistente, ma venne dichiarato prescritto, ma comunque quella sentenza e quella verità di cui tu parlavi, quindi si è avuta la verità, ma non è stato soltanto merito di quei magistrati, ma è stato merito della collettività, di un impegno di una collettività che voleva la verità, che voleva un impegno contro la mafia negli anni 80, finalmente per la prima volta dopo la teoria di assoluzione per insufficienza di prova, che voleva che venissero smascherati anche davanti in un'aula di giustizia e rapporti tra mafia e politica, mafia e istituzione, e di cui vendono quelle sentenze. Arriviamo ai giorni nostri, non volevo alludere la tua domanda sulla trattativa stato-mafia. Beh, va nello stesso discorso, c'è stato un processo che spingeva per la scoperta della verità di quella stagione, che non è una stagione qualsiasi, la stagione del 91-93 non è soltanto la stagione stragista, non è soltanto la stagione in cui muoiono Falcone e Borsellino, è la stagione in cui nasce la cosiddetta Seconda Repubblica. Io ho sempre detto che la cosiddetta Seconda Repubblica ed è il ventennio berlusconiano di cui abbiamo parlato prima che quei guasti, quei disastri ha determinato e ha lasciato, è una Seconda Repubblica che è letteralmente nata e è stata letteralmente costruita, edificata sul sangue di quelle stragi. i pilastri della Seconda Repubblica sono intrisi dal sangue di Falcone e Borsellino, dalla moglie di Falcone e di come l'ascolta. Perché? Perché non è un caso e non solo, diciamo, dei PM del mio caso, ex PM visionari, hanno costruito una teoria giudiziaria. ci sono sentenze, qui ci sono le sentenze, sulla trattativa del Stato-mafia non è presunta, perché ci sono delle sentenze definitive, ad esempio della Corsa di Assisi di Firenze sulle stragi del 1993 che dicono che la trattativa fra Stato e mafia c'è stata. Lo Stato, ad un certo punto, è sceso a patti con la mafia e ha cercato i capi mafia per vedere cosa volevano i mafiosi per smettere alle stragi perché si è ritenuto che lo Stato non potesse reagire, non fosse all'altezza dello scopo in quel momento. Questa trattativa è cessata, quel processo che è in corso di cui io ho avviato le indagini al suo tempo assieme a Mino Di Matteo e agli altri magistrati della propria di Palermo di quel tempo che è un'indagine che si è portato avanti queste prove io ritengo che sia con tante prove il processo che ci sia stato peraltro un rinvio a giudizio da parte di un giudice comunque del giudice dell'udienza preliminare e un riprova che non è un processo fondato su nulla ma senza voler entrare nel merito di un processo in corso per il quale poi una Corte d'Assise farà le sue valutazioni e determinazioni se ripeto noi vogliamo parlare in termini di verità si avrà mai la verità su quella stagione io credo che la verità comunque prescinde da quella che si forma in un processo perché ci sono degli eventi delle condizioni specifiche dei singoli processi che possono dipendere dai pubblici ministeri dagli avvocati dai giudici dalle prove come si forma nel processo ma la domanda più ampia che tu hai fatto che si avrà mai la verità su quel processo io rispondo dicendo che dipende da noi cioè dipende dalla capacità che noi avremo di chiedere e pretendere la verità su quella stagione se noi non saremo abbastanza forti e con la voce non saremo essere così diciamo persuasivi e quindi creare costituire rafforzare c'è stato in un certo momento oggi molto più debola un movimento di massa che vuole quella verità la chiede e la pretende come è stata nella stagione degli anni 80 quel movimento che voleva il maxiprocesso che c'è stato e c'erano quelle condanne come quel movimento che voleva la verità sul rapporto mafia e politica e c'è stato e quel movimento ha prodotto quelle indagini in quei processi come dicevo dal processo dell'ultimo del processo del processo con tratta così lo stesso vale per la verità tutta la verità su quella stagione ricordavi questo fatto nuovo della sentenza della corte d'assise a a caltanissetta sul clamoroso depistaggio criminale depistaggio della stagione di via d'amenio i giudici molto coraggiosamente la corte preseduta dal presidente balsamo molto coraggiosamente hanno scritto e hanno chiuso trasmettendo anche gli atti alla procura di coltanissetta perché la procura approfondisse le indagini su un depistaggio criminale che sarebbe troppo facile attribuire al cosiddetto falso pentito mezzo stupido diciamo non ho conosciuto un interrogato diversamente al suo tempo di Vincenzo Scarantino che certamente fin dall'inizio nessuno poteva mai pensare davvero potesse essere stato diciamo l'unico ideatore di quella stagione perché secondo l'accusa iniziale non era l'unico ideatore ma comunque si è rivalato essere stato un depistatore e si è rivalato però essere stato un depistatore su input e determinazione da parte di qualcuno come Salvatore Borserino dice nell'intervista che è stata pubblicata oggi sul Fatto Quotidiano gli investigatori del tempo che sono stati anche indagati che poi la procura di coltanissetta non ha ritemuto di portare a giudizio anche perché il capo diciamo di quel team investigativo oggi è morto poi si è rivalato essere benché il funzionario di polizia e al libro paga dei servizi segreti e è certo che la strage di via D'Amelio è stata cruciale in quella vicenda di cui parlavamo prima della trattativa statomafia e se vi è stata complicità dello Stato nella trattativa e nella stagione stragista bisognava in fretta prima che si rivassa la verità costruire fabbricare un'altra verità depistante questo purtroppo è una cosa che è successa in modo ricorrente nella storia delle indagini di mafia da quelli che sono Mauro negli anni 60 fino a Mauro Rostagno in epoca più recente le verità le verità per recente parliamo di 30 anni fa le verità quando sono le verità imbarazzanti che chiamano in causa poteri occulti avvolti a responsabilità anche degli apparati istituzionali dello Stato intervengono subito intervengono subito apparati istituzionali per deviarle se c'è la morte Enrico Mattei potremmo parlare in epoca più recente ma subentra subentra diciamo l'ex PM ma anche il neo avvocato diciamo Antonio Ingroia essendo legale di parte civile della famiglia Manca in un altro caso che pretende giustizia e senatore ha subito soltanto depistaggi e mi riferisco al caso del medico Attilio Manca trovato morto nella sua abitazione di Viterbo e poi liquidato dalla magistratura di Viterbo come un caso di overdose per il quale è stata addirittura condannata la presunta spacciatrice che abbia ceduto la dose quando si tratta lo ripeto mi assumo la responsabilità di quello che dico si tratta palesemente dal primo momento di un evidente depistaggio e di una messa in scena con la quale si è coperto un omicidio che nel caso di Attilio Manca è stato un omicidio di mafia ma anche un omicidio di Stato un omicidio di Stato perché Attilio Manca era un medico come hanno raccontato alcuni collaboratori di giustizia alcuni hanno raccontato a me nella nuova messa di avvocato perché oggi gli avvocati possono anche svolgere indagini difensive dall'interesse delle parti civili e non avendo vista diciamo l'inerzia della magistratura che non andava a interrogare questo pentito sono andato io a interrogarlo con la mia scrittura che mi hanno andato allo studio legale e sono andato in questo carcere l'ho interrogato e ho raccontato come stavano le cose essendo stato lui l'ultimo momento addirittura incaricato di commettere un omicidio delle ragioni con l'omicidio che era legato alla latitanza di Bernardo Novezzano boss della mafia che era sì un capo mafia ma era in un certo senso passate diciamo la apparente forzatura anche un uomo dello Stato perché era l'uomo della mafia che era garante del patto Stato-mafia in esito alla trattativa fra mafia e Stato e quindi andava mantenuto ben in vita e latitante perché garantiva la tregua dello stragismo che lui aveva garantito per conto della mafia la trattativa della Stato-mafia era una trattativa che aveva come finalità che lo Stato prometteva alla mafia un ammorbidimento della legislazione che infatti si è quasi subito registrato in quegli anni e la mafia in cambio prometteva e garantiva che non ci sarebbero stati più stragi sono stati più stragi benché dal punto di vista del potenziale militare la mafia ci avesse certamente tutte le possibilità e opportunità per mettere a ferro in fuoco l'intero paese come ha dimostrato nel 93 con le stragi di Roma e Firenze in Italia. Bernardo Provenzano che era il leader dell'ala più trattativista di Cosa Nostra al contrario di Brusca Bagarella che poi invece vennero arrestati tutti uno per uno quelli che erano la parte più intransigente stragista di Cosa Nostra loro vennero arrestati mentre Provenzano rimaneva libero e ci sono processi che dimostrano anche che ci sono stati investigatori che erano lì lì per arrestare Provenzano e qualcun altro intervenì per impedire l'arresto di Provenzano doveva anche restare in vita e stare bene e Provenzano era vecchio e malato e quindi occorrevano dei medici bravi migliori medici che c'erano sulla piazza per tenerlo per curarlo perfino in una famosa clinica a Marsiglia dove venne operato un'operazione complicata e le prove dicono che anche Attilio Manca a sua insaputa ricordate che Bernardo Provenzano era irriconoscibile per come è stato poi trovato quando è stato arrestato rispetto alle foto di quando era giovane quindi è normale che un medico al quale si dica un altro nome possa curarlo senza rendersi conto che ha a che fare con un mafioso ma probabilmente Attilio Manca cominciò a sospettare qualcosa delle particolari cautele accortezze che venivano utilizzate insomma cominciò a fare troppo domande bisogna eliminarlo ma bisogna eliminarlo non in un modo che potesse dare luogo a sospetti perché un medico che opera in ospedale a Viterbo dovrebbe essere ucciso dalla mafia non bisognava ucciderlo come uccide la mafia ma bisognava nascondere la sua morte con una messiscena ebbene e così è stato con quella messiscena dell'overdosa che però è stata come dire bevuta dalla magistratura di Viterbo tanto che è stata condannata per la morte di Attilio Manca la specciatrice che secondo la procura di Viterbo e secondo quello che definiscono messi in scena era stata la responsabile di quella morte bene perché ho raccontato questi episodi per dire come abbia conosciuto mai come in questo caso alla verità e alla giustizia l'assenza di attenzione d'opinione pubblica perché questa storia è una storia minore che non conosce nessuno proprio per questa ragione di recente sull'iniziativa della testata giornalistica Antimafia 2000 e assieme alla Famiglia Manca è stata avviata una petizione di raccolta di firme per chiedere alla procura di Roma che vada avanti nell'indagine sull'esposto sulla denuncia che noi abbiamo presentato che io ho presentato alla procura di Roma perché è competente non Viterbo ma Roma essendo sede della Corte d'Appello sede della Procura di Settore Antimafia perché se è un omicidio è un omicidio di mafia Viterbo non c'entra niente deve indagare Roma Roma ha aperto un'indagine ma c'è il rischio che l'archivi perché Viterbo invece va avanti per un'altra strada e allora c'è questa petizione anzi colgo l'occasione per invitarvi sul sito change.org a cercare questa petizione comunque troverete anche sul sito d'Antimafia 2000 credo che sia anche sul sito nostro diciamo un giornale online di cui io sono direttore che si chiama Giustizia e credo che sia importante un esempio uno dei tanti esempi nel quale ciascuno di noi può fare qualcosa può dare il suo contributo perché ripeto dipende dal contributo di ciascuno di noi se le cose possono cambiare se noi aspettiamo e confidiamo sul fatto che le cose cambino perché c'è qualche salvatore della patria oggi un magistrato domani che sono un nuovo politico un'altra figura di riferimento saremo destinati diciamo alla sconfitta e poi alla rassegnazione mai come ora dobbiamo metterci sulle spalle un senso di responsabilità in più una responsabilità da cittadini e una responsabilità da resistenti come il festival che è nel quale credo e spero prosegua avanti ancora per darci ancora più voglia di resistere e voglia di cambiare grazie a Michele Antonio e Francesco non abbiamo finito ovviamente io volevo riflettere fare un'ultima riflessione per concludere questa prima fase dei relatori che sono qui per poi dare spazio alle eventuali vostre domande osservazioni mi leggo a quello che ha appena detto Antonio Ingroia per una riflessione e poi una domanda a Michele Antonio Ingroia ribadiva l'importanza di sentirsi responsabili di non essere indifferenti che poi è il titolo di questo convegno la resistenza oggi il coraggio di respingere gli indifferenti l'indifferenza Antonio Gramsci diceva odio gli indifferenti sono partigiano odio gli indifferenti oggi più che mai questo è un valore importante da applicare nella vita di tutti i giorni a me e anche a Francesco io e Francesco in in forme in modi diversi ci capita di entrare nelle scuole io dico sempre ragazzi che di fronte a tutto quello che ci siamo detti oggi i grandi problemi le trattative stato mafia i complotti le grandi jp morgan le grandi manovre occulte le guerre pensiamo di non avere potere noi ognuno di noi soprattutto i ragazzi giovani pensano ma noi cosa possiamo fare non abbiamo io che sono un semplice cittadino uno studente che cosa posso fare che potere ho di fronte a tutto quello che ci siamo detti oggi in realtà noi insieme abbiamo un grande potere noi popolo che è una parola che desueta ma che dobbiamo far tornare di moda noi popolo insieme abbiamo un grande potere e loro hanno paura se stiamo insieme nelle differenze eh non è che dobbiamo stare insieme omologandoci nelle differenze però possiamo stare insieme sulla base di valori comuni e dobbiamo farlo con quello che sappiamo fare nella vita di tutti i giorni perché poi faccio una domanda a Michele Emergency per esempio sa fare sanità ma non fa solo sanità attraverso la sanità vuole ampliare i diritti ed è fondamentale questo è una battaglia civile importante e quello che viene viene chiesto ad Emergenzi spesso quando si parla del programma Italia è ma perché Emergency sta in Italia quando c'è già il sistema sanitario nazionale no? è una domanda importante no? che ora non è che vorrei che rispondesse Michele però anche ci può io una cosa stiamo andando verso una una per tutto ciò che ci siamo detti anche adesso eh lo stato sociale quello nato dalla resistenza alla sanità come bene comune come valore ormai è qualcosa di superato la sanità deve essere qualcosa di commerciale non più un bene comune l'Emergenzi non vuole sostituirsi al sistema sanitario nazionale anzi vuole lavorare accanto al sistema sanitario nazionale per dimostrare e per affermare ancora il diritto il valore della sanità della cura medica come bene comune tant'è che nelle strutture sanitarie di Emergency in Italia ma io sono stato anche in Cambogia ho visto anche lì era quando avevamo l'ospedale in Cambogia c'erano anche là le le scritte sui muri ci sono gli articoli della Costituzione italiana tra cui l'articolo 11 l'Italia ripudia la guerra ma l'articolo in cui si afferma che la salute è un bene dell'individuo e che la Repubblica tutela la salute come bene dell'individuo e non del cittadino che è importante perché Emergency non gliene frega niente che una persona sia cittadino italiano straniero che sia mafioso o che sia un santo che sia comunitario o extracomunitario ma nel momento in cui una persona sta male e si rivolge a una struttura di Emergency è una persona che ha il diritto un individuo che ha il diritto di ricevere le cure mediche questo è quello che possiamo fare e quello che a me piace tanto anche raccontare ai ragazzi nelle scuole e volevo sapere da Michele se condivide un po' questa interpretazione Sì, beh in Italia questo è quello che facciamo da dieci anni è questo garantire un articolo della nostra Costituzione il 32 in cui ogni individuo ha il diritto di accesso alle cure mediche e se indigente lo Stato si deve occupare di curare quella persona questo è quello che cerchiamo di fare cerchiamo di superare quelle che sono le barriere che impediscono l'accesso per i migranti le barriere sono principalmente linguistiche culturali sono logistiche lontananza dai servizi quindi oltre alla medicina quello che cerchiamo di fare noi e mi riallaccio a quello che diceva Massimo e cioè non ci sostituiamo al sistema sanitario nazionale ma noi lavoriamo con il sistema sanitario nazionale ovunque in tutte le regioni d'Italia abbiamo dei protocolli con le ASL con le prefetture o con le regioni in alcuni casi per colmare dei buchi del sistema sanitario nazionale dei buchi del sistema sanitario nazionale riconosce la mancanza del mediatore culturale l'incapacità a comprendere la reale patologia di un migrante è un problema che il sistema sanitario nazionale in alcune regioni riconosce per questo fa lavorare emergency per questo ci fa lavorare ci da soprattutto la possibilità di capire come riuscire a superare queste problematiche lo facciamo lo facciamo nei confronti di chiunque di chiunque entra all'interno delle nostre strutture che sia italiano che sia migrante che abbia un regolare permesso di soggiorno o che non abbia un regolare permesso di soggiorno si condivido assolutamente quello che diceva Massimo quello che continueremo a fare finché ci sarà bisogno purtroppo il problema è che in Italia sembra che ci sia sempre più bisogno e che le aree in cui la gente diciamo patisce questa distanza dei servizi sembrano diventare sempre più ampi dalle aree rurali a anche alle aree urbane delle nostre città grazie prima di passare la parola a tutte le vostre osservazioni e domande volevo dire chiedere questo siccome abbiamo abbiamo organizzato questa questa questo festival con l'ampi ovviamente vedo Paolo Dolfi Gennaro Barboni con l'associazione Agende Rosse ma l'abbiamo fatto anche grazie all'amministrazione comunale riteniamo importante il sostegno delle istituzioni per cui ho visto che è entrato il sindaco Andrea Benini quindi credo che sia doveroso che l'istituzione in una giornata in cui si fa una commemorazione della resistenza dica due parole poi lasciamo lo spazio a tutti allora no il filo è corto mi metto in mezzo allora no sono entrato da un po' ho sentito una buona parte delle domande poi delle risposte all'intervento di Antonio Ingroia sono venuto con grande di corsa venendo da un'altra iniziativa però sono venuto a venire in tutti i modi perché ho sempre molto apprezzato l'impegno e il lavoro di questi anni dal magistrato dal magistrato antimafia senza mai la paura di metterci la faccia anche quando magari era particolarmente scomodo diciamo così da parte appunto di Ingroia e quindi ecco ho anche apprezzato appunto le riflessioni e il pensiero appunto che ho espresso anche qui e mi è sembrato giusto metterlo anche in questo contesto diciamo il lavoro è estremamente interessante infatti la ripresa giustamente Massimo in questa sintesi rimandando poi la palla di emergency sul fatto se si arriverà mai alla verità domanda enorme diciamo comunque verità processuale o verità in assoluto rispetto a una vicenda controversa complessa difficile come quella richiamata e la risposta che è stata data è che la verità in parte in un certo senso si ritrova insieme e quindi quello che diceva Massimo giustamente che è un po' il tema appunto della serata e che appunto per questo motivo così giusto averla messo in questo contesto di questo lavoro di avvicinamento al 25 aprile far sì che questa festa sia non qualcosa di solamente retorico celebrativo ma che abbia un senso oggi per domani quindi dargli un senso ricalandola nel nostro quotidiano il fatto che questo lavoro è un lavoro da fare tutti i giorni quotidianamente insieme di partecipazione di consapevolezza di presa di coscienza di senso di come dice Don Luigi Ciotti di corresponsabilità cioè essere chiamati tutti insieme a dare delle risposte perché poi responsabilità significa questo e quindi riaffermare tutti i giorni i diritti declinandoli nelle varie modalità in cui tutti noi nell'impegno di ciascuno vedo tante persone di folloni impegnati nelle associazioni dell'associazionismo sociale Emergency è stata una presenza è una presenza importante e quest'anno è stato fatto un lavoro particolarmente importante nella nostra città abbiamo visto l'autobus di Emergency che si trova impegnato in tante parti d'Italia e per tanti è stata una scoperta di qualche anno fa all'inizio è davvero sorprendente cercare di capire perché anche in Italia poteva essere importante una presenza di questo tipo poi nel video che abbiamo visto negli incontri fatti nell'ottobre novembre scandite le parole della Costituzione nei corridoi delle strutture sanitarie proprio per dare un senso a quel lavoro lì cioè che non era semplicemente non è assolutamente assistenzialismo ma è un fare un lavoro anche di tipo culturale diciamo così di presa di coscienza e quindi a maggior ragione importante cioè colmare delle lacune a fermare di diritti ma farlo ripeto concretamente quotidianamente fuori da ogni così retorica campata per aria e è quello che non deve essere il 25 aprile perché l'abbiamo in questo senso svuotato di significato se ci sono delle assenze delle mancanze delle indifferenze ormai no? rispetto a questa ricorrenza dobbiamo far sì che davvero possa riavere senso importanza attualità rispetto a tutte le facilità disagi povertà e anche le nuove configurazioni della povertà che stiamo assistendo comprese quelle più difficili oggi da dire e da affermare rispetto per esempio all'accoglienza dei migranti che provengono da da lontano e vengono nella nostra terra nella nostra città nel nostro paese dobbiamo ridirlo anche questo perché oggi a proposito delle cose scomode è abbastanza scomodo e assolutamente inopportuno che l'amministratore o il sindaco riaffermi questo credo invece sia giusto dirlo dell'importanza dell'accoglienza a prescindere diciamo senza altre valutazioni da nessun altro genere rispetto a nient'altro se non l'importanza di salvare delle vite e poi trovare degli strumenti sensati pragmatici perché si possa gestire un fenomeno del nostro tempo non possiamo girarsi dall'altra parte non possiamo sperare che ci pensi sempre qualcun altro che sia un'associazione di volontariato magari sia un altro comune un'altra istituzione dobbiamo pensarci noi per noi ciascuno di noi come cittadini come persone come istituzioni come comuni come sindaci ognuno deve sentirsi addosso questa responsabilità anche dell'accoglienza dicevo qualche tempo fa in iniziativa e finisco l'etimologia della parola ospitalità che fa capire al di là degli schematismi tra l'assistenzialismo paternalistico l'idea del respingimento della paura che secondo me esprime plasticamente l'idea che dobbiamo affermare per per capire come approcciarsi diciamo l'idea e anche la gestione della realtà migratoria cioè che l'idea della reciprocità non tanto dell'assistenzialismo ma del quadro diciamo di relazione cioè ospitalità in italiano esprime due concetti opposti è la stessa radice dell'ospitalità nel senso dell'ospite e quindi di ospitato compreso il nemico lo straniero fino a tutti i confini più estremi diciamo di questa parola ma anche di chi ospita quindi l'oste l'ospis quindi sia chi ospita sia chi ospitato hanno la stessa radice la stessa parola quindi significa che non c'è un noi e gli altri come dire ognuno è straniero all'altro in qualche modo oppure potremmo dire come diceva De André nella canzone Coracanè finché un uomo ti incontra non si riconosce quindi questa idea della reciprocità assoluta che è l'approccio che dobbiamo avere e che dobbiamo affermare perché ciascuno ritornando alla Costituzione all'articolo 3 in questo caso possa affermare un'idea di uguaglianza sostanziale perché davvero la Repubblica in tutte le sue articolazioni possa davvero rimuovere gli ostacoli che impediscono l'uguaglianza vera effettiva vissuta concretamente quotidianamente dobbiamo sentirci tutti coinvolti e quindi in questo senso viva il 25 aprile perché abbia questo significato qui non campato per aria ma con i piedi piantati ben per terra e grazie di nuovo grazie grazie il microfono è aperto libero per chiunque voglia dire due parole nevio però devi venire qua si viene ah no c'è Roberto c'ha l'altro microfono buonasera a tutti io lo ringrazio per la presenza di Antonio Ungraoi mi ha avuto piacere di conoscere a Palermo per fare alcune domande e sono venute fuori anche i restieri, come riccio, questa domanda. Ma la situazione attuale che si sta vivendo non è anche un fatto che l'Italia non abbia mai fatto onti o il fascismo, nella vera parola. Nel senso, quelli che sono stati gerarchi e avevano dei posti, che hanno mantenuto questi posti, che sono stati non rimossi e l'Italia non ha mai fatto i conti veramente, non ha fatto la Germania, non ha fatto la Francia, con quello che avrà passato. Ma non è che ci induce a questa situazione. Faccio un discorso terra a terra. Noi, nelle nostre strage non si sa niente. Se si parte dalla strage del piano della cortella, non si sa niente. Non si sa niente dell'Italia, non si sa niente. Di niente, di niente. Ecco, questo. Io credo che non si può dire che non c'è stata una trattativa. Anche il fatto stesso della mancata trattura di Provenzano nel 95 è testimonianza di una trattativa c'è stata. Io non so se questa trattativa c'è ancora. Ma qualche cosa mi lascia da dubitare, che ci sia ancora. Anche per il fatto che non esce niente, non si sa niente di niente, non si sa della nostra sorte passata. Ecco, e per costruire il futuro io credo che un pochino di conoscenza del passato c'è. Ecco, questo. Noi non si sa niente della massoneria, non si sa niente di quanto abbiamo fluido anche dei destini della nostra storia. Ecco, questa è una domanda che è venuta scaturita anche ieri al presente di un particionista. E questo lo faccio anche a te. Influisce il fatto che noi non ci siamo affatto conti con il nostro passato? Sì, io sono d'accordo con lei. Il problema è che vale per i rapporti con il fascismo e vale anche nei rapporti con la mafia, è esattamente la medesima cosa. Il problema è che il nostro paese, purtroppo, diciamo, il nostro popolo, non tutto, non va mai generalizzato, ma una parte consistente, diciamo, degli italiani, hanno un rapporto difficile con la giustizia e con la verità. È una questione che ha radici molto profonde nella cultura del nostro paese. Noi siamo indotti a perdonare, diciamo, senza conquistare la verità. Mentre si può anche raggiungere processi di composizione, però si può raggiungere processi di composizione fra parti avverse che si sono diraneate in una guerra civile. Ci sono dei paesi nel quale ci sono stati processi di questo genere. Ci sono stati guerri civili nella fine della quale c'è stata una riconciliazione, ma non può avvenire una riconciliazione se non ci si riconcilia con il senso di verità e di giustizia di quel popolo. Allora, questo non è avvenuto, non è avvenuto a raggiungere già all'epoca e continua a non avvenire. Non è avvenuto con la mafia e continua a non avvenire. Io non credo, non so se c'è in corso una nuova trattativa, perché penso che non ce ne sia stato bisogno. Quella trattativa è stata a suo tempo stipulata, si sono realizzati negli accordi dei patti e su quegli accordi dei patti noi siamo ancora dentro quegli accordi dei patti e il processo trattativa era un processo disubbidiente rispetto ai patti, perché faceva parte del patto che la trattativa non doveva essere mai svelata e quindi la magistratura disubbidito a quell'accordo che lo Stato per conto di tutti noi aveva stipulato a suo tempo. Ed ecco la regione per la quale quei magistrati, sia chi l'ha avviato dal principio come me, sia quelli che poi l'hanno continuato a portare avanti come Lino Di Matteo, ricevono certamente non un trattamento gratificante da parte dello Stato, ma un trattamento di isolamento e quasi di inserimento in una lista di proscrizione. E a questo ci dovremmo, diciamo, una parte invece che ha il senso di verità e di giustizia e ci crede dovrebbe ribellarsi quotidianamente. Allora, io credo che il ribaltamento della Costituzione sia iniziato immediatamente dopo il 48. Ricordate la legge truffa e tutto quello che c'è stato in relazione all'eliminazione della Norimberga italiana, tanto per fare due esempi babali. E ricordo anche che quando sono giunto ad abitare a Milano, gli ex partigiani che avevano occupato posti pubblici mi raccontavano che erano stati tutti quanti rimossi e a questi posti erano stati rintegrati gli apparati dello Stato durante il periodo fascista. Per cui bisognerebbe anche fare un'analisi dettagliata su cosa è stato in quel periodo e tutto quello che è stato fatto in Italia per dimezzare o ridurre il valore della Costituzione. Perché di fatto a scuola non si insegna, pochi e pochi sanno o ricordano soprattutto delle nuove generazioni questi fatti veri ed importanti. Allora, l'altro elemento. Io finalmente sento qualcuno che parla del secondo paragrafo dell'articolo della Costituzione. Il grande dimenticato. Che per esempio che cosa significa? Tanto per fare un esempio concreto. La televisione è un servizio pubblico, paghiamo l'abbonamento, per quale motivo nessuno si indigna e chiede che questo sia un servizio di informazione pubblico fondamentale per creare e attuare l'articolo della Costituzione? Perché su questo non abbiamo mai fatto battaglia. Esiste tutti gli estremi per fare una class action contro il meccanismo di funzionamento contro tutte quante le regole. Cominciamo anche a dare dei segnali intervenendo immediatamente su questo che già sarebbe un segnale chiaro di presa di coscienza. Oggi ancora di più ci hanno fregato mettendo i 10 euro al mese sull'abbonamento della TV in modo che la maggior parte della gente in bolletta non sa neanche che paga i 10 euro mensili. Allora, l'altro elemento. Allora, io credo in questo momento che l'altro elemento che credo sia stato un errore è, dopo il 4 di dicembre, aver di fatto smobilitato il Comitato Referendario Nazionale. Perché di fatto l'Ampis è subito defilato e tutta quella struttura che era in piedi si era organizzata e che aveva vinto solo la prima battaglia, non aveva vinto la guerra, di fatto si è fermata e non ha continuato, chiamando a raccolta tutti quanti per organizzarci e per fare quello che dicevi prima. Io credo che sia un altro errore madornale colossale del quale, se facciamo l'elenco e chiamiamo in causa, non finiamo di fare l'elenco dei responsabili. Ad esempio, come mai due sindacati si sono tirati fuori dal Comitato Referendo, un altro c'è stato dentro tirato per i capelli e comunque in tanti hanno accettato e gli hanno dato bene che quel Comitato sia finito e abbia smesso di avere il ruolo fondamentale di coordinamento che aveva prima. Queste cose oggi dovrebbero parlare nel dibattito e nel ragionamento fino in fondo, perché avevamo un elemento doveva continuare a lavorare. Perché è successo questo? Esistono le cosiddette cinchie di trasmissione che ancora non sono state tagliate perché in troppi ancora non riescono a levarsi di tasca quella appena detta tessera e continuano a condizionare gli elementi e alla fine dobbiamo cominciare a dire nome e cognome le cose e capire. L'altro elemento importante è perché a sinistra non è un elemento aggregante che è quello dell'emergenza esterna di cui tu dicevi chiaramente gli elementi, però ognuno continua a voler mantenere la propria piccola, la sua propria bandierina, la propria torre d'avore nella quale isolarsi, invece che pensare che in questo momento c'è un'emergenza che mette a tacere tutto il resto. Quelle divisioni oggi non contano, non servono, sono solo dannose. Quei sono elementi che vanno messi ancora nel discorso. Applausi Vogliamo fare l'intervento così poi do una sola risposta? Sì, io faccio delle domande brevi. Sì, devo prendere la prima. Vabbè, penso che si sentono anche nel parlo di casi. Farò delle domande brevi. La prima è quasi scherzosa, forse scherzosa, non sa quasi. Una volta ho sentito dire ad Antonio Ingroia questa frase Un segreto è per sempre. Mi riferisco... Non lo so. È per sempre. Questa è la mia domanda. Sì, è per sempre. Va bene. Va bene. Poi volevo chiarire un qualche cosa riguardo a una presenza che non viene quasi nominata. Poco fa l'è un po' sfiorata. Sono i servizi, i servizi segreti. Hai parlato degli anni settanta. È vero. Bellissimo. Io provengo da quegli anni. Figuriamoci. Il divorzio e quant'altro. Tante regge e soprattutto tanta presa di coscienza. Tanta solidarietà. Perché dimostra che quando ci si muove insieme nasce la solidarietà. La solidarietà nasce quando ci stai insieme e si fa qualcosa. Non è un oggetto, un qualcosa che spunti chissà da dove. Bene. E ricordo che ho sentito un nome durante, mentre parlavi di Provenzano, tra gli ingredienti, un nome che mi ha ricordato, se non ricordo male però, mi ha ricordato un'altra indagine molto più antica, del 69, durante una strage in una banca dove un indagato è volato chissà come? E' ancora un po' interrogativo. Dalla finestra. Un certo un anarchico, un certo Giuseppe Pineri. E lì non si capisce bene cosa è successo. Però c'era un carabiniera, forse un capitano, se non ricordo male. Il nome era La Bruna. Bene, io l'ho visto di nuovo, l'ho sentito di nuovo durante le... Sì, durante la storia di Provenzano. Ma anche oltre Provenzano, anche... A parte Provenzano, anche l'indagine di un tal canale, per esempio, per fare un qualcosa che aveva sempre a che fare con la madre, non mi ricordo se con Provenzano o con Tutorina. Bene, a questo proposito ti chiedo, cosa c'entra qui e quanto c'entra i servizi segreti? Durante il maxiprocesso si è sottovalutato quello che ha detto Luciano Ligio. E Luciano Ligio ci ha detto una cosa, forse l'ha detta così per millantare chissà cosa, no? Ma ha detto che sia da uno stato avvicinato dai servizi segreti per un colpo di stato che c'è sempre stato negli anni 70, ricordi Zipar, Lorenzo, Maletti, tutte queste persone... Che ruolo hanno? Perché sono... Quasi non se ne parla mai. Spuntano di tanto in tanto così con Rostaglio che forse ha visto, eccetera, forse con Ilaria Alpi, però è una presenza costante che non sappiamo noi come rapportarci con queste persone, non sappiamo chi sono, aleggiano in aria. Ho finito, questa è la mia domanda, vorrei qualche intervento in proposito, grazie. Ma io ho la voce che si sente, non voglio fare una domanda, volevo focalizzare un punto che questa sera non è mai stato trattato né da Ingroia né da Emergency ed è il discorso della guerra. Io sono una volontaria di Emergency e ho partecipato e partecipo a tutte le iniziative da Andiamo Bellaccio in piazza a Piombino quattro giorni fa, stasera e alle prossime che ci saranno, in quanto ritengo che una delle grosse eredità che abbiamo avuto dalla Resistenza è quella dell'articolo 11. Cioè la Costituzione italiana dice che l'Italia ripudia la guerra e questo è nato proprio da questi anni terribili in cui sono successe cose tremende che hanno portato veramente al disgusto per la guerra, al non volere che la guerra si ripetesse mai più. E in questo momento siamo in una situazione internazionale in cui c'è di nuovo la corsa agli armamenti, in cui si fa a chi ha la bomba più grossa e a chi ce l'ha più pericolosa e chi ne ha di più. Ecco, io credo che questo elemento è un elemento che come compagni, come resistenti e come Emergency, Emergency ce l'ha molto chiaro che la guerra è il diritto fondamentale, cioè la negazione della pace è quella che toglie tutti i diritti perché la guerra ti toglie dal diritto alla vita, al diritto all'istruzione perché le scuole vengono bombardate, al diritto alla sanità perché gli ospedali vengono bombardati, al diritto al lavoro perché le infrastrutture vengono distrutte, al diritto a una vita di socialità, ha una vita di normalità perché la guerra distrugge tutto, distrugge le relazioni fra le persone, distrugge tutto. Per cui io chiedo che questo argomento della guerra all'interno del festival venga portato avanti, come sto chiedendo all'interno di Emergency di riprendere una grossa iniziativa a livello nazionale contro la guerra, perché secondo me stiamo attraversando un momento molto pericoloso. Quattro giorni fa a Piombino circolavano autoblindo mimetiche con camion mimetici che portavano container mimetici al porto. La gente si è un po' allarmata, il giorno dopo c'è stata una risposta molto tranquillizzante sui giornali, no, che questa è una nave che va nella penisola arabica per fare delle esercitazioni. A me questo non mi tranquillizza assolutamente. Grazie. Ecco. E' un'osservazione che ci è stata fatta in varie occasioni che in questi cinque giorni il tema della guerra, nello specifico non è stato toccato in relazione ai scenari drammatici internazionali. Il problema è uno solo, ma è vero, e poi io e Cristina facciamo parte della stessa associazione, ne abbiamo anche parlato in privato. Il problema è che questo festival lo abbiamo organizzato e strutturato mesi fa. Trump non era nemmeno presidente degli Stati Uniti d'America, abbiamo cominciato a lavorarci sopra, e quindi non era stata inserita nello specifico dell'argomento. però ci auguriamo, e Cristina ci ha dato già una prima risposta, che questo argomento venga fuori, emerga, perché alla fine la guerra è l'ultima conseguenza di tutto ciò che ci siamo detti. Quando Ingroia all'inizio parlava di un regime globale e non più di un regime nazionale contro cui Ingroia diceva durante la resistenza si combatteva contro il fascismo e comunque era un regime nazionale. Qui siamo di fronte a un regime globale tanto più difficile da individuare perché si nasconde meglio, almeno evidente, ma ci entra dentro e ci ambia il pensiero. Un regime globale, si è fatto, ci porta a una guerra globale. Su questo ne siamo tutti consapevoli. Io sono tra coloro che non ha, ho una figlia, e lo dico sempre con il groppo in gola, siamo di fronte a una guerra mondiale. Su questo siamo d'accordo. Ed è un qualcosa che non passa, la persona comune non lo concepisce. La guerra è sempre quella cosa che succede agli altri. Abbiamo difficoltà a pensare che la guerra potrebbe essere qualcosa qui a Follonica. La vediamo con gli effetti del terrorismo, la guerra che c'entra in casa attraverso il terrorismo. Ma la guerra, quella vera, abbiamo ancora difficoltà a concepirla come qualcosa che può minacciare noi. Eppure siamo di fronte a uno scenario dove ci sono blocchi, l'est e l'ovest ancora, sembra di essere tornati indietro di qualche decennio, che si stanno minacciando ad armi nucleari. Quindi, Cristina ha ragione. Io aggiungo, abbiamo difficoltà a rimetterci insieme. E non capisco perché. Abbiamo difficoltà perché io che ho vissuto tutta quella stagione esaltante dei primi anni del secolo, del 2000 al 2001, dalla guerra nella ex Jugoslavia, passando poi addirittura dalla Somalia. Ma poi le prime manifestazioni le ho fatte contro bombardamenti su quel grado in piazza San Giovanni a Roma. E poi c'è stato l'11 di settembre, poi c'è stata l'Afghanistan, l'Iraq e tutto ciò che ne consegue. Bene, tra il 2000 e il 2003 abbiamo dato vita a un grandissimo movimento contro la guerra. Enorme! Il 15 febbraio del 2003 eravamo 3 milioni stimati a Roma e in tutto il mondo, non solo in tutta Italia, ma in tutto il mondo, in contemporanea, la gente era scesa in piazza. Cosa è successo poi? Non lo sappiamo, ma quella spinta, quell'entudiatra si è spento. Anche noi dentro Emergence ci lo siamo chiesti. Abbiamo anche scritto alla serie, lo possiamo dire, perché noi come gruppo, qui ho visto che c'è Sara, Cristina, c'erano Elisa, Michele, prima sono andati via, in pochi abbiamo scritto alla serie e gli abbiamo detto diamo vita a una grande manifestazione, che l'Emergence si faccia promotore, promotrice di una grande manifestazione di piazza. Chiamo il popolo alla lotta, perché in questo momento la guerra è una spada dinamocle veramente drammatica sulle nostre testi. Il movimento contro la guerra sta facendo fatica a rimettersi in movimento, scusate il gioco di parole, a rimettersi in marcia. Io non ho risposte. A Follonica ci siamo visti qualche settimana fa, ne abbiamo discusso, alcune associazioni, alcuni movimenti politici, però poi tutto si è arrenato di nuovo lì. A Grosseto so che la prossima settimana ci sarà una prima manifestazione, non so in altre parti d'Italia. Io non ho risposte, però credo che Cristina abbia centrato un punto importante e quindi l'appello a nome di tutta l'Associazione Emergence, che faccio anche Michele, qua ci sono gli altri volontari, è quello di rimetterci in marcia contro la guerra, perché davvero stiamo a un passo da una catastrofe globale. Io ora passo la parola a Ingroia per le risposte alle domande che mi sono state fatte. Grazie. Intanto mi associo a queste ultime parole che condivido in pieno. Parlevamo e abbiamo detto che questa Costituzione va difesa, ma non va soltanto difesa per conservare, va difesa per attuarla anche nelle parti che non sono attuate. Purtroppo alcune delle sue parti più avanzate non sono attuate. L'articolo 3 della Costituzione che ha citato prima, l'articolo 11 altrettanto, perché quante sono oggi le cosiddette missioni di pace che invece di fatto sono missioni di guerra dalla quale le nostre truppe sono impegnate all'estero e che andrebbero immediatamente ritirate. Su questo si dovrebbe anche creare un movimento di opinione forte. Quindi battaglie sulle quali impegnarci ce ne sono tante. Comunque non voglio naturalmente alludere le domande che mi sono state fatte, quindi rispondo per flash a tutte, sono un po' tante. La domanda allusiva è se il segreto è per sempre, la risposta è dipende da che tipo di segreto, ma se sono segreti d'ufficio, anche quando non si è più magistrato e si mantiene il segreto, sono segreti d'ufficio che si è assunto. Poi è anche vero che in qualche intervista ho detto che un popolo al diritto alla verità ci possono essere forme senza creare il segreto per fare sapere le verità. In quanto riguardo il ruolo dei servizi, certamente l'ombra lunga dei cosiddetti servizi deviati, per esempio trovare quelli che deviati non sono la storia del nostro paese, si è allungata su molti fatti di sangue, sia sulle strategie che hanno insegnato il nostro paese negli anni sessanta, negli anni settanta e poi sino ad epoca più recente. riguardo i fatti più immediatamente legati alle cose di cui mi sono occupato in prima persona da magistrato e cioè quelli di mafia, certamente non è un caso che uno dei processi che è giunto una condanna nei confronti di un uomo delle istituzioni, del rischio del processo Contrada, riguardava il dottor Contrada che quando venne arrestato nel 1992 era il numero 3 o numero 2 per certi versi dei servizi segreti civili del SISD, si chiamava dell'epoca, ed è un uomo che aveva fatto carriera proprio quando poi le sentenze, i collaboratori di giustizia ci hanno raccontato che lui aveva intensificato il rapporto della mafia, cioè via via che lui era inizialmente un poliziotto antimafia, quando era poliziotto antimafia non faceva carriera, appena sono cominciati i suoi rapporti nel mondo della mafia la sua carriera è cresciuta diciamo in modo galoppante per arrivare ai vertici degli servizi segreti, questo è un esempio, la trattativa è stato mafia di cui abbiamo parlato, secondo l'accusa ai uomini dei servizi segreti, ai vertici dei servizi segreti il generale Mori, fra questi che è stato capo dei servizi segreti nel periodo dei governi Berlusconi è uno degli imputati in quel processo, poi decideranno la Corte del SIS se è colpevole o innocente ma certamente se una trattativa fra Stato e mafia c'è stata, è ovvio che i servizi segreti hanno avuto un ruolo importante di interfaccia di ciche di trasmissione, il caso Manca di cui abbiamo parlato prima, secondo la dichiarazione di alcuni pentiti ci sono stati coinvolgimenti nell'omicidio di servizi segreti, i servizi segreti avevano anche un ruolo di protezione della latitanza di Bernardo Provenzano perché Bernardo Provenzano, come ha detto prima, era garante della Pax mafiosa insomma, esempi ne abbiamo purtroppo tantissimi. Vengo poi alle domande più, diciamo così, politiche sulla Costituzione credo anch'io che sia stato un gravissimo errore lo sceglimento di fatto anche se formalmente esiste ancora del coordinamento delle comitazioni costituzionali e credo anch'io che il problema principale che sia nato è che è nata immediato una ostilità da parte delle strutture organizzate già esistenti, partiti e non solo partiti temendo che stesse per nascere una nuova soggettività politica che ne avrebbe limitato i poteri e il ruolo di influenza purtroppo è la vecchia malattia della sinistra italiana, soprattutto della sinistra radicale italiana dei partiti e partitini nel quale ciascun leader del piccolo partito tiene a non perdere il proprio ruolo di leadership ritiene che il contagio e la contaminazione con nuove strutture più ampie ne determini la perdita di indirizzo politico io ad esempio sono, anch'io sono presidente di un movimento politico però a differenza di tanti altri il nostro movimento politico che si chiama azione civile ha fra i suoi obiettivi quello di sciogliersi ogni tanto gli aderenti di azione civile mi dicono ma come, che è il movimento politico che ha come sua finalità quello di sciogliersi ma perché io dico che non ha senso e non ha futuro una prospettiva di pensare che piccoli movimenti o piccoli partiti possano da solo diventare chissà cosa allora io credo che ancora il tempo non sia totalmente perduto si deve andare verso un momento, un nuovo momento andando al di là dei comitati se i comitati non si riescono più a tenere in piedi un nuovo momento nel quale si convoca e si mettono insieme in quello che io chiamo una sorta di stati generali dell'attuazione della Costituzione cioè si mettono insieme a prescindere delle tessere che ci sono in tasca sia che la tessera ce l'ha, sia che non ce l'ha ma dimenticandosi per un attimo della tessera che è in tasca cioè non ragionando in termini di appartenenza ma ragionando in termini di strategia e obiettivo da realizzare creare veramente un movimento che dopo la resistenza abbia presente che occorre la liberazione e la ricostruzione la ricostruzione è parte da queste cose che abbiamo detto l'attuazione della Costituzione dell'articolo 3, dell'articolo 41 la parte dell'articolo 41 appunto dell'utilità sociale della 41 e 42 della proprietà più alta e dell'iniziativa economica l'articolo 11 sulla pace e contro ogni forma di guerra e tutti gli altri diritti di cui siamo stati espropriati allora abbiamo la forza, abbiamo la fiducia, abbiamo diciamo crediamo che questa cosa si possa fare e allora se ci crediamo dobbiamo avere il senso di responsabilità di metterci al servizio di questo progetto ed è nell'interesse nostro perché altrimenti la partita è persa ed è persa per sempre e ogni giorno che passa rischia di essere troppo tardi grazie e poi devo scappare sì, allora infatti vedo che la gente sta già cominciando ad andare via io vi ringrazio a tutti, volevo solo dire una cosa ultima non è solo azione civile che ha come obiettivo ultimo quello di sciogliersi l'emergenza lo diciamo sempre che lo scopo di emergenza è quello di non esistere più perché significherebbe che non c'è più bisogno di emergenza quindi abbiamo costruito un mondo più umano, più solidale dove i diritti sono affermati io vi ringrazio tutto, vi ringrazio Michele, vi ringrazio Antonio, vi ringrazio Francesco ci vediamo alla sala di Redeno per la mostra che è sempre aperta fino al 25 aprile grazie grazie